Un'inerita alleanza tra leghisti e grillini, oggi pomeriggio uniti in un sitino a Caffarsetti per contestare le scelte dell'amministrazione in materia di urbanistica. Nel Mirino l'accessione ai privati dell'area del mercato ortofrutticolo di Via Torino e la successiva variante al piano regolatore, grazie alla quale si potranno edificare 190.000 metri cubi di commerciale e residenze di lusso. Territori che prima valevano un tot di euro, adesso tramite una variante, tramite una firma, valgono 10 volte di più. Se non è speculazione questa, ditemi voi cos'è. Una concezione dell'urbanistica che i manifestanti hanno ribattezzato furbanistica. Noi chiediamo, e lo chiederemo adesso con istanza che presenteremo domani alla procura del pubblico e alla Corte dei Conti, di verificare come stanno i conti di questa operazione, che per noi è completamente out, è ora di finirla con queste pianificazioni selvagge che sono tutto a danno della collettività. Leghisti e grillini ce l'hanno anche con Urban Promo, la mostra che si tiene in questi giorni nell'isola di San Giorgio. Sono cinque anni che in questa città manca un piano urbanistico, denunciano, è ora di smetterla, di prendere in giro i cittadini. Praticamente si continuano a fare varianti, a decine e decine di varianti, casuali, dovunque, e poi le si riveste con un aspetto di una nouvelle urbanistique fantastica, eccezionale, per giustificare lo sviluppo di aree a vantaggio dei grossi gruppi immobiliari. In poche parole, concludono i manifestanti, ci stanno raccontando delle favole. È una favola a quale abbiamo dato il nome, la fiaba dell'amministrazione, del benefattore e della variante che per magia tutti i soldi si porta via.